Le recenti immagini provenienti dalla Croazia e le scosse registrate nel Veronese ci ricordano la vulnerabilità di un territorio attraversato da una faglia che si muove fra la pianura veneta e l'arco alpino. Nella nuova mappa voluta dalla regione tutti i comuni del Veneto sono considerati a rischio sismico. Non esiste più la zona grigia a minor rischio ma tre aree ciascuna con un proprio coefficiente di pericolosità. La base scientifica della nuova classificazione è stata fornita dall'Università di Padova. Non è che questa riclassificazione sismica modifichi le sollecitazioni che devono sopportare le costruzioni quando si verifica un terremoto. Quelle sono già stabilite nella normativa nazionale e dipendono dall'ubicazione geografica. È però una riclassificazione nel senso diciamo tra virgolette amministrativo. In tutti i comuni del Veneto sarà ora possibile accedere a incentivi fiscali come il sisma bonus anche nei 305 comuni della terza zona, la meno pericolosa. 205 sono quelli in fascia media, 11 quelli più a rischio nella prima fascia, 7 nel Bellunese, Alpago, Chiesa Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana e la stessa Belluno e 4 nell'alta marca trevigiana, Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona.